Un trucco molto utile per il vostro iPhone, soprattutto se utilizzate app come TikTok. Aprite l'app Comandi, andate su Automazione, Crea un'automazione personale, scegliete App, selezionate Viene aperta, Scegli. Io sceglierò TikTok, ma voi potete scegliere qualsiasi app volete. Andate avanti, aggiungi azione, imposta volume, selezionate la percentuale di volume, io imposto 0. Andate avanti, togliete la spunta Chiedi prima di eseguire, fine. Ogni qualvolta aprirete TikTok, verrà impostato il volume a 0. Il trucco è incompleto perché uscendo da TikTok dovrete reimpostare il volume al massimo, quindi continuiamo. Ritornate sull'app Comandi, aggiungete un'altra automazione, sempre App, impostate, Viene chiusa. Scegliete l'app o le app che avete impostato precedentemente, aggiungi azione, imposta volume, impostatelo al 100%. Togliete Chiedi prima di eseguire, quando aprirete TikTok si toglierà il volume. Quando chiuderete TikTok il volume ritornerà.